segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te berlusconi sa perfettamente che noi andremo meglio di lui alle elezioni e questa cosa lo fa uscire di testa dalla rabbia quindi la conclusione sarà che questo la nostra lista sarà più forte di forza italia e in più mandando un abbraccio a berlusconi dico caro presidente tu che è ripartito per fare i popolari europei finisci nelle mani di una sovranista come la meloni non ti riconosco più